Le immagini che vi proponiamo vi giungono in diretta dal campo Pineta di Pinzolo, dove il Bologna a minuti affronterà l'ultimo, nonché il più impegnativo, dei test sostenuti qui in quota durante questi 18 giorni di ritiro nella località della Val Rendena. Mario Paz, Dykes davanti a Inzaghi, Falletti di tacco, Falcinelli ancora Falletti, Falcinelli l'ora deve guadagnare ovviamente l'area di rigore, la sovrapposizione di Dykes contrastato fallosamente da Claret, calcio di rigore decretato da Bertini. Bertini, Falcinelli contro Rose, Diego Falcinelli dal dischetto esultanza, rabbiosa. Svetta Venatti, serve Falletti l'ora dell'area di rigore, buona chance per Cesar Falletti, si gira, mantiene il possesso, conclude e raddoppia. Buona iniziativa personale di Cesar Falletti, che riesce a controllare spalle alla porta, a girarsi liberandosi della marcatura e a trovare l'angolino lontano. E al novantesimo il Bologna mette in cassaforte il risultato.